Tra le opere attese per la viabilità della Valle Seriana c'è anche la rotatoria di Fino del Monte per la messa in sicurezza di un altro incrocio molto pericoloso. Il Consiglio Comunale a Rovetta enaura la richiesta di dimissioni del Presidente dell'Unione dei Comuni della Presolana. L'Overeil c'è l'erifail pieno di iscritti, la scuola si prepara l'undicesima edizione della settimana della cultura classica. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Purtroppo sembra che l'artigiano di 57 anni di rovetta ma originario di Clusone coinvolto in un grave incidente in montagna sabato mattina sopra Val Bondione sia clinicamente morto. L'uomo era precipitato in un crepaccio tra il Passo della Manina e il Sasna mentre praticava sci alpinismo. Sabato le condizioni di Emilio Castelletti sono apparse da subito gravi. Per il recupero dell'uomo è intervenuto l'elicottero con il verricello. Sembra che si stia procedendo con le procedure per l'espianto degli organi. Tra le opere pubbliche attese dal territorio dell'Alta Valle Seriana c'è anche un intervento inserito nella gradatoria della comunità montana ma delle quali si sono perse le tracce ovvero la rotatoria sulla strada provinciale tra Rovetta e Castelletti da Presolana appena sotto l'abitato di Fino del Monte e nei pressi dell'intersezione con la strada che porta a Onore e a Songavazzo. Per il primo e secondo lotto dell'intervento esiste già il progetto definitivo che in passato era stato inserito tra le opere prioritarie e programmato dalla regione. Documento finito in un cassetto per la carenza di fondi. Sul finanziamento dell'opera ora c'è anche l'interessamento dell'assessore regionale all'infrastruttura Alessandro Sorte che nelle settimane scorse ha incontrato Fino del Monte le amministrazioni comunali interessate e anche con la presenza del consigliere provinciale con delega alle viabilità Pasquale Gandolfi. L'intervento è diviso in due lotti. Il piano finanziario che dovrebbe essere aggiornato essendo passati alcuni anni prevede 997 mila euro per il primo e 1.638 mila euro per il secondo lotto. La realizzazione della rotatoria che insiste sul territorio di Fino del Monte potrebbe consentire di mettere in sicurezza l'intersezione con la strada che porta a Onore e a Songavazzo dove in passato si sono verificati numerosi incidenti purtroppo anche mortali. La strada di collegamento con gli abitati di Fino del Monte e Rovetta oltre a ridurre il traffico sulla pericolosa intersezione tra via Fantoni e via Papa Giovanni XXIII a Rovetta dove la scorsa settimana si è anche verificato un incidente consentirebbe l'accesso diretto al territorio di Fino del Monte da parte dei mezzi pesanti che oggi devono sottostare ai limiti di carico imposti dalla pavimentazione in pietra presente nel centro storico rovettese. La variante potrebbe inoltre, considerando alleggerimento del traffico, dare una nuova viabilità all'incrocio tra via Fantoni e via Papa Giovanni XXIII a Rovetta. Vogliamo le dimissioni del Presidente dell'Unione dei Comuni della Presolana. La richiesta avanzata dal gruppo consigliare di minoranza di Rovetta è portata in Consiglio ieri sera. Questa sera in Consiglio Comunale a Rovetta si è parlato ancora del progetto di fusione e voi avete chiesto le dimissioni del Presidente dell'Unione dei Comuni della Presolana, Covelli. Sì, in effetti questa sera abbiamo presentato due interpellanze, ma quella che più ci chiedeva lei riguarda l'interpellanza che è un po' la fase continuativa del risultato referendario del progetto di fusione. Chiaramente l'amministrazione non aveva preso, non aveva ancora avuto occasione, se non l'ultimo consiglio di dicembre, di focalizzare un po' quello che è, non tanto il risultato, ma quello che vuole essere il piano organizzativo futuro del Comune di Rovetta all'interno dell'Unione dei Comuni della Presolana. Noi riteniamo, come abbiamo detto anche durante la campagna referendaria, che l'Unione dei Comuni è fondamentale per il Comune di Rovetta come anche per tutti gli altri comuni, ma necessita assolutamente di una spinta diversa anche nella sua organizzazione e nella sua attività. Quindi anche nell'interpellanza abbiamo chiesto come atto dovuto anche le dimissioni da parte dell'attuale Presidente, il quale giustamente va ringraziato per tutto il suo impegno che ha dedicato all'Unione dei Comuni della Presolana, ma oggi a fronte del risultato di bocciatura del referendario della fusione necessita assolutamente di un cambio di Presidenza. Un Presidente chiaramente che non deve essere solamente un cambio di nome, ma ci deve essere un Presidente determinato a far funzionare come si deve l'Unione dei Comuni della Presolana, come? Attraverso una gestione associata dei servizi che produca beneficio per tutti i cittadini, ma soprattutto un'economia anche dei costi. E questa sera avete detto no al bilancio qui in Comune a Rovetta? Sì, il no perché è vero che vengono mantenute tutte le aliquote IMU, TASI e TARI e anche IRPEF non vengono aumentate, ma non per volontà dell'amministrazione, ma perché c'è un'imposizione governativa che impone ai Comuni di non aumentare le aliquote che ho detto prima. Noi speravamo che ci fosse un'attenzione, soprattutto per quelle che sono le attività commerciali, piccoli artigiani presenti sul nostro territorio e soprattutto perché stanno vivendo, come tutti noi, un momento di crisi economica. Credo che sarebbe stato un segnale importante che questa amministrazione produce e generasse degli incentivi o degli sgravi, mi viene da pensare sulla tassa dell'immodizia, quindi sull'ATARI, a favore appunto degli usi non domestici, quindi questi piccoli commercianti, questi piccoli artigiani, sarebbe stato secondo noi un segnale importante che questa amministrazione dava soprattutto a questo momento di crisi economica. Sentiamo ora la replica del primo cittadino di Rovetta, Stefano Savoldelli. All'interno dell'interpellanza che ci è stata posta questa sera c'era anche la richiesta di avvicendamento del Presidente dell'Unione dei Comuni della Presolana, su questo punto va sottolineato che in Consiglio Comunale non si può decidere in merito della presidenza di un ente che ha la sua autonomia. Tuttavia il Presidente Covelli ha dimostrato in questi anni grande attaccamento, passione e disponibilità a lavorare per un ente che coinvolge anche comuni che non sono il suo, perché sono prima sei, poi cinque comuni conosciuti di questione della presolana e fare Presidente dell'Unione significa impiegare il tempo tanto quanto ne devi impiegare per il tuo comune. Quindi a Covelli tutta la nostra, la mia gratitudine per l'impegno e per il lavoro, per la professionalità che ha prestato. L'avvicendamento credo che sia una cosa naturale proprio per consentire di cambiare un po' l'impostazione dell'ente stesso ma soprattutto per consentire a chi ha dato tanto in questi anni di poter lasciare spazio a qualcun altro. Quindi è probabile che in futuro coincessi un avvicendamento della Presidenza? Diciamo che l'avvicendamento era già nelle cose da diverso tempo, solo che non si è più proceduto a questo in una logica di staffetta tra un sindaco e l'altro perché eravamo partiti col progetto di fusione e a seguito del quale abbiamo voluto dare continuità fino al referendum. Ora il referendum è passato da ormai quattro mesi e a questo punto credo che i tempi siano maturi per consentire un nuovo cambiamento del Presidente. Ecco in Consiglio Comunale questa sera anche il bilancio e le varie tariffe, le minoranze hanno detto no? Sì, abbiamo provato il bilancio di previsione del 2017 e contestualmente, anzi preliminarmente, abbiamo provato le aliquote e le tariffe. Abbiamo mantenuto le tariffe dell'addizionale IRPEF, IMU e TASI, peraltro bloccate anche a seguito dell'impostazione governativa, dell'impostazione statale nella legge finanziaria del 2017. Per quanto riguarda invece la tassa dei rifiuti, siamo riusciti a ridurre, seppur di poco, da una cifra che va dal 3 al 4% per le utenze domestiche, la tariffa, grazie all'innovazione che abbiamo introdotto nel maggio del 2016, ossia la raccolta differenziata dalla frazione organica dei rifiuti, cioè il contenitore marrone che è stato distribuito a tutti i cittadini. Questa innovazione ha consentito di fare un balzo in avanti notevole per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata e ciò ha comportato una riduzione di spesa complessiva del servizio. Pertanto questa riduzione ci fa ben sperare per l'anno prossimo, che non più su 7 mesi si farà la raccolta differenziata, ma su 12 mesi si potrà considerare o ipotizzare una riduzione ulteriore della tassa dei rifiuti. Nel bilancio si è riusciti a confermare questo un elemento di grandissima soddisfazione da parte nostra, tutti quei capitoli di spesa che consentono una corretta e adeguata vitalità del Comune e un livello di servizi molto alto. Per esempio, faccio solamente alcuni esempi, il livello di manutenzione di tutto il patrimonio comunale, degli edifici scolastici e pubblici, il trasporto pubblico, il trasporto dei bambini, dei ragazzi, dell'elementare e delle medie gratuito, il mantenimento di contribuzioni per l'organizzazione dell'attività turistica, per l'abbattimento delle rette per il diritto allo studio, quindi anche per contenere le spese dei bambini che vengono iscritti all'asilo. Ora ci spostiamo all'overe, il polo liceale fa il pieno di iscritti. Innanzitutto, dopo che si sono chiuse le iscrizioni, com'è andata per il Celeri? È andata bene, molto bene, superiore le aspettative in quanto, visto il calo demografico che assilla l'Italia e un po' tutti i posti occidentali, ma soprattutto le nostre vallate, io temevo un tracollo dovuto alla crisi del lavoro, alla crisi della famiglia, alle nascite, proprio poi vedendo i numeri delle scuole di primo grado, le terze medie, la temevo peggio. Inoltre, il fatto di essere un classico, un artistico, uno scientifico, il liceo, è vero che c'è stata una leggera ripresa, ecco noi possiamo dire che abbiamo gli stessi ragazzi che escono, rientrano, quindi le stesse classi. E in più, un altro anno partiamo anche con il liceo sportivo, indirizzo sportivo, la seconda classe della provincia di Bergamo è stata assegnata qui a Lovere e quindi potremo attivare anche, arricchire l'offerta formativa con questo nuovo indirizzo. Ecco, in questi giorni poi siete impegnati su quello che è un grande progetto della scuola, che è la settimana della cultura classica, che quest'anno raggiunge l'undicesima edizione. Esatto, l'undicesima edizione non è poco in questi tempi resistere così tanto, è un'innovazione pedagogica didattica, un modo nuovo di fare scuola. Eravamo partiti per portare i ragazzi a teatro, per rendere più allettante quello che erano gli studi dei classici, negli antichi, portandoli loro in scena con un effetto catartico, perché essendo sul teatro si muovono delle dinamiche nei giovani che sorprendono sempre, tutte le volte, quando si vedono come cambiano, una volta che devono interpretare i classici. E in più riportare la nostra tradizione, le nostre terre. In queste vallate il teatro ha sempre rappresentato quello che era una ricchezza. Non c'è un paese dove c'era una compagnia teatrale, in dialetto, in vernacolo, ed serviva a rendere la vita più piacevole. Da questa, 11 anni fa, una professoressa longimirante introdusse come metodologia il teatro, in una classe del classico, interpretando le tragedie greche. Da lì poi, vista la forte rispondenza dei ragazzi, siamo riusciti ad arricchire l'evento con la rassegna teatrale che noi proponiamo a tutte le scuole della Lombardia e che anche quest'anno vede parecchie scuole, dal Sarpi di Bergamo, dal Calini di Brescia, dal Golgi di Breno, a partecipare alla nostra rassegna. E in più, avendo l'orgoglioso, di cui sono molto orgoglioso, il liceo artistico, nato qui, in seno all'Accademia Tadini di Lovere, che presenta proprio la mostra didattica, tutti i lavori di altissimo livello. Io amo dire proprio che è un piacere anche lì, un altro modo di esprimere i talenti dei nostri giovani con le tecniche naturalmente seguiti dai professori, raggiungo dei livelli molto alti. Questo mi permette anche di dire che ai nostri valli la cultura non è da poco, cioè non siamo secondi a nessuno davvero. E ho un grande rispetto per tutte le culture del mondo. In questa scuola mi piace parlare dei cittadini del mondo. E posso dire che il messaggio iconico, che poi sia pittorico, architettonico, o le exografie, o le incisioni, raggiungono. È una bellezza. Una breve interruzione tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Venerdì sera in Sala Legrenzi a Clusone sarà presentato l'ultimo libro di Luigi Furia. Venerdì 17 marzo alle 20.30 nella Sala Legrenzi di Palazzo Marinoni Barca a Clusone, Luigi Furia presenterà il suo libro Storie di Montagna. Storie di Montagna, una raccolta di racconti, alcuni riguardano anche Clusone. Sì, cioè in pratica sono racconti per capitoli eccetera che riguardano i vari aspetti della vita in montagna, dalla famiglia, non so, alle funzioni. E naturalmente c'è anche un capitolo che riguarda gli alpini, per cui raccontiamo un po' anche la storia di Giovanni Zanoletti, il Cassamali, noto personaggio in quel di Clusone, grande uomo e grande alpino. Come ci sono altri racconti che riguardano gente dell'alto piano di Clusone e comunque in generale principalmente l'alta Val Seriana, partendo anche da piccoli episodi. Sono tante tessere però che alla fine danno uno spaccato della vita che si viveva nei nostri paesi qualche anno fa ed è bene che questo sia conosciuto anche dai giovani d'oggi, perché se oggi siamo arrivati al benessere che ancora godiamo, lo dobbiamo questi nostri vecchi. Una parte del libro è dedicata anche alle miniere, è un tema a cui Luigi Furi ha dedicato sempre molta attenzione. Se ne parlerà anche a Clusone? Sì, se ne parlerà, perché in primo luogo c'è un capitolo proprio riservato alle miniere, anche perché è stata una delle attività che hanno caratterizzato principalmente l'alta Val Seriana, cioè dalle miniere di Ferro, di Lizzola, Val Bondione, Fiume Nero, eccetera, alle miniere di Zingo, di Corno. Corno si intende tutta la zona mineraria che comprende questi giacimenti. e appunto nell'occasione verrà anche rivisitato, diciamo così, il volume precedente che riguardava in modo specifico le miniere di piombo e zinco della Bergamasca. Me l'han chiesto gli organizzatori della serata e penso che un accenno sia dovuto anche per gli sviluppi che magari possono avere ancora le miniere nella nostra zona. L'importante appuntamento calcistico nel fine settimana appare e andrà in scena la terza edizione del Memorial Garatti. Bene, allora domenica 18 marzo, terza edizione del Memorial Garatti. Ci sarà un prologo già il sabato con la presenza delle scuole calcio dei paesi più importanti qua vicini. Ci sarà la presenza del Clusone, del Rovetta, Villa Donia, Ardesio, l'Accademia Val Seriana e la Juvenes di Gianni Radici di Casnigo. Sono 2009-2010, faranno un torneo a partire dalle ore 16 di sabato 18 marzo. Poi ci sarà un pasta party offerto a tutti i bimbi, mentre alle ore 20 e 30 ci sarà l'amichevole tra l'Accademia Val Seriana e la Juventus. Categoria Pulcini, la prima volta che la Juventus viene in Val Seriana. Ci sarà la presenza anche del Juve Club di Alzano, che si chiama appunto Juve Club Val Seriana, e speriamo che sia una bella festa già il sabato. Questo è il prologo. Poi la domenica 19 marzo, sempre con la presenza della Juventus, ci sarà il Memoria Garatti iniziando dalle ore 9. Dalle ore 9 ci sarà Atalanta-Accademia Val Seriana, alle 9.30 Verona-Juventus, e poi via via entreranno in scena le altre squadre, a partire dall'Inter che è la detentrice del torneo, poi c'era Verona, Vicenza, Cremonese e Cittadella. La formula è molto snella, l'abbiamo concordata con gli allenatori di queste società importanti, quindi non c'è possibilità di annoiarsi appunto, perché sono partite di 25 minuti, di bimbi categoria Pulcini, che partiranno a mille all'ora, e ci sarà veramente il meglio del calcio quasi nazionale, comunque di certo dell'Italia settentrionale, con la presenza appunto di squadre come l'Inter e la Juve, che tra l'altro si incontreranno alle 15.30 della domenica pomeriggio, e da lì in poi ci saranno tutte le finali. Ecco, questo è il torneo, ci sarà a disposizione di tutte chi vorrà venire a assistervi, le cucine saranno sempre aperte, c'è appunto i famosi Scarpinoch di Parre, e Strinù e quant'altro, c'eranno due bar attivi, quindi per chi vuole divertirsi, c'erano tutte le possibilità, insomma, noi vi aspettiamo e confidiamo, dovrebbe essere anche una bella giornata, e confidiamo come l'anno scorso in un folto pubblico, grazie. Ecco, vuole ringraziare qualcuno? Sì, grazie, vorrei ringraziare il Comune di Parre per il patrocinio a tutta l'iniziativa, la Proloco e l'Oratorio di Parre che hanno dato una mano decisiva all'Accademia a organizzare questo importante evento, che solo grazie all'aiuto del Comune e di queste due importanti associazioni siamo riusciti a organizzare. Ora continuiamo con la rubrica Quala Zampa? Per ritrovare a un nuovo appuntamento con il veterinario, vorrei parlarvi in questa puntata delle difficoltà che qualcuno può incontrare nel trasportare il proprio cane in auto. Dovete capire che sicuramente muoversi su un'auto o su quattro ruote non è proprio la cosa più naturale che un cane possa affrontare e alcuni soggetti possono dimostrare paura o grosse difficoltà. Qualche consiglio è sicuramente quello di fare un avvicinamento graduale. Cominciate con l'auto spenta, ferma e con le portiere tutte aperte. In questo modo il cane può essere messo in macchina, fatto salire e cominciare a farlo avvicinare dando proprio la sensazione di spazio aperto, tutte le portiere aperte e premiarlo quando lui si dimostra tranquillo e sereno. Il passo successivo è quello di abbassare i finestrini e chiudere le portiere e quindi farlo sentire a proprio agio già in un ambiente un pochino più chiuso. Sicuramente ricordatevi che premiare il cane quando dimostra un impegno, quando si dimostra a proprio agio aiuta e velocizza il processo di farlo sentire proprio agio. A questo punto quando il cane comincia a sentirsi tranquillo all'interno dell'auto potete cominciare a mettere in moto l'auto e a questo punto senza spostarla fare in modo che le vibrazioni e il rumore del motore non creino fastidio. Il passo successivo è quello di fare un piccolo giro molto breve e premiare il cane se lui si dimostra favorevole e comunque non troppo disturbato da questo tipo di movimento dell'auto. Ricordatevi che quello che vi ho descritto in quest'ultimo minuto deve essere fatto in un lungo periodo di tempo quindi in varie riprese e soprattutto premiando il cane quando acquisisce un nuovo livello. Un altro consiglio è quello di far abituare il cane in un trasportino ma non direttamente in auto in casa utilizzando come cuccia all'interno della casa in modo che lui possa essere premiato durante il momento in cui sta all'interno di questo trasportino una volta che si sente al sicuro all'interno della casa può essere spostato sull'auto e questo darà sicuramente un senso di sicurezza al cane viaggiare in auto all'interno di un trasportino ma sarà anche una sicurezza in caso di incidente laddove il cane non verrà sbalzato all'interno dell'auto o addirittura scappare fuori dall'auto dopo l'incidente ma rimarrà chiuso all'interno di un trasportino che sicuramente lo proteggerà molto meglio che libero per il baule o libero per l'abitacolo. Per questa sera è tutto vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo appuntamento di qua alla Zampa. Arrivederci! Una breve interruzione tra poco Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2 continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 le 20.40 trasmetteremo il sasso nello stagno questa puntata ci porterà ad Ardesio per parlare della ludopatia e dei 5.000 casi che ci sono purtroppo sul territorio bergamasco alle 21.20 trasmetteremo Antena 2 Sport alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.10 tempi supplementari sul canale al numero 218 le 21.30 trasmetteremo di nuovo un'edizione del telegiornale di Antena 2 alle 22.10 trasmetteremo Target e il servizio ci porterà a Pisogne dove domenica è andata in scena la camminata in rosa alla quale hanno preso parte circa 400 persone sul canale sportivo numero 628 le 20.30 trasmetteremo la partita di calcio Albino Gandino Cisanese mentre alle 22.10 lo speciale dedicato alla maratonina di Treviglio ecco anche l'almanacco per domani mercoledì 15 marzo il sole sorge alle 6.28 e tramonta alle 18.30 il culmine è alle ore 12.29 la durata del giorno è di 12 ore e 2 minuti la luna sorge alle 21.28 e tramonta alle 8.33 di giovedì la fase lunare la luna è calante ed è visibile al 79% la chiesa ricorda Santa Luisa ecco anche il meteo il cielo vedrà una copertura nuvolosa medio alta più fitta nelle ore centrali della giornata temperature in ulteriore aumento e con questo è tutto siamo giunti al termine di questa edizione grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti